L'interpretare Alessia è stato innanzitutto molto divertente perché è una donna che mi somiglia sotto alcuni aspetti e poi è stato anche piacevolmente sorprendente perché Alessia è un personaggio tridimensionale per cui è una donna molto dura nel dipanarsi del racconto sappiamo che questa ragazza sin da piccola ha subito grandissimi traumi, ha vissuto una perdita molto importante, la sua storia è cambiata, la sua vita è cambiata da quel momento in poi da quando ha deciso di denunciare il suo patrigno, di essere comunque poi aiutata dalla polizia dai servizi sociali, a ricostruirsi una vita insieme alla sorella, quindi una donna molto interessante, molto intelligente che mi ha stupito più volte nel racconto.